Iniziamo questa lezione un po' lunghina su due aspetti collegati. Ho deciso di fare una lezione unica, poi dopo ognuno può andare a vedere le parti che gli interessano maggiormente. La prima parte sarà dedicata in generale al sacro, quindi al tema del sacro in antropologia, e la seconda parte riguarderà le religioni, toccando ovviamente non in modo esaustivo per carità, le religioni principali, quindi quali sono le caratteristiche principali delle religioni nel mondo di oggi. Iniziamo proprio a definire che cos'è una religione. Non è facile definire la religione perché è un concetto veramente molto ampio, molto antico, infatti non è sempre facile dire se una determinata realtà, come può essere quella buddista, è una religione oppure è considerata una filosofia di vita. Su alcuni magari andiamo un po' più tranquilli, tipo il cristianesimo, tipo l'islam, su altri facciamo un po' più fatica a definire se si tratta di una religione o meno. Perché questo? Partiamo da un presupposto fondamentale che la religione è un concetto, è un aspetto che è un fenomeno universale perché riguarda tutti, riguarda tutti nel tempo e nello spazio, nel tempo inteso come, adesso poi lo vedremo, anche i primi nostri antenati avevano delle forme rudimentari di religioni, di credenze. E nello spazio, perché da nord a sud, dall'oriente ad occidente, ci sono state diverse manifestazioni, quindi nel credere in qualcosa o qualcuno di soprannaturale, questa può essere una definizione diciamo basica di quella che è la religione, la credenza in qualcosa o in qualcuno di soprannaturale, cioè che va oltre la nostra natura, di divino, di eterno, di creatore del mondo. Ancora oggi la maggior parte della popolazione mondiale crede in qualcosa e questo è un elemento importante che ci deve far capire che la religione è stata e lo è tuttora un fulcro fondante della nostra specie e proprio perché è così non è sempre facile non solo definirla ma anche trattare tutte le sue sfumature perché abbiamo visto anche nella storia che ci sono state diverse problematiche legate proprio alle religioni, pensiamo alle guerre di religioni, pensiamo alle persecuzioni nei confronti degli ebrei, insomma non è facile riuscire a trattare questo argomento, forse è l'argomento per me più bello perché mi piace tantissimo ma anche un po' più complesso da trattare anche coi miei studenti. Credere che cosa significa? Beh, credere significa professare una fede religiosa, quindi credere vuol dire andare oltre la ragione, riprendendo un po' il percorso di filosofia per credere in qualcosa che non è tangibile, che è metafisico, che va oltre la fisica e questa è proprio una professione di fede, cioè un credere in qualcosa che non è tangibile, non si può toccare. Ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione, il primo tra tutti è la distinzione come potete vedere qua nella slide tra credente e non credente, agnostico e atio. Il credente è colui che appunto professa una fede religiosa, crede in qualcosa o qualcuno di sovrannaturale, di eterno, creatore del mondo, dà il senso alla propria esistenza, al proprio mondo attraverso questo qualcosa o questo qualcuno che, per esempio Dio, che rappresenta il suo creatore, il creatore del mondo. Il non credente ovviamente non crede. Che differenza invece c'è tra l'ateo e l'agnostico? L'ateo è colui che crede che non esista Dio, che non esista un'entità sovrannaturale, divina e eterna, perché deriva da teos, cioè teos vuol dire Dio e a davanti è il privativo, quindi vuol dire senza Dio. Quindi l'ateo è colui che crede, quindi prende una posizione netta, crede che non esista Dio. Invece l'agnostico non prende posizioni perché a, abbiamo detto che è privativo, quindi vuol dire senza. Gnosis vuol dire conoscenza, quindi senza conoscere. Quindi è colui, l'agnostico è colui che non prende posizione, cioè non si mette da una parte né dall'altra, perché non ha ancora maturato la propria personale posizione, magari non la maturerà mai. Questi sono degli aspetti importanti nella religione, qua vedete la venerazione, il timore, i riti per entrare in comunicazione, l'esperienza quotidiana che può essere fatta individualmente o collettivamente. Pensiamo per esempio alla preghiera prima di andare a dormire, magari fatta individualmente, oppure la preghiera dei fedeli fatta in chiesa. Quella è un'esperienza collettiva, fatta all'interno della propria collettività. Vediamo adesso gli elementi della religione secondo Marco Livetti, che è vissuto tra il 1943 e il 2006. Iniziamo con l'ammissione dell'esistenza dell'entità sovrannaturale, questo è l'elemento fondamentale che abbiamo già detto prima. Quindi il credente che crede in una determinata religione deve ammettere l'esistenza di un'entità sovrannaturale, di un dio, degli dei, degli spiriti, di alcune anime, ma comunque sia abbiamo un'ammissione di un'esistenza di un'entità sovrannaturale. E proprio in virtù del fatto che noi ammettiamo l'esistenza di un'entità sovrannaturale, facciamo un culto, cioè una serie di comportamenti. Attenzione perché spesso culto e riti vengono confusi. Il culto è una serie di comportamenti, di usanze, vedete qua, usanze e atti per mezzo dei quali il sentimento religioso si esprime. Quindi il culto è una serie di comportamenti attraverso il quale la religione si esprime, la propria fede si esprime. I riti invece è una comunicazione, una relazione con il divino. Certo culto e riti vanno a barcetto perché io attraverso queste serie di comportamenti che rappresentano il culto metto in atto dei riti, delle comunicazioni per entrare in relazione con il divino. E questo è un secondo aspetto. Terzo aspetto, l'adesione personale, rispettando stili di vita, valori e rituali dei fedeli. Vuol dire che se io appartengo ad una religione e appartengo ad una comunità religiosa di necessità, visto che non vivo in una torre separato dagli altri, aderisco a quei valori, a quei rituali, a quegli aspetti etici e morali che fanno parte di quella religione. E poi c'è la dottrina, cioè l'aspetto un po' più filosofico, è la spiegazione dell'origine del mondo, dell'esistenza, del senso della vita, dove andiamo, quando moriamo, eccetera. Per cui riassumendo Marco Livetti ha rilevato quelli che sono i quattro elementi della religione, che sono la missione dell'esistenza di un'entità sovranaturale, questo ognuno di noi lo deve fare individualmente. Poi c'è il culto, il culto che viene fatto generalmente non solo individualmente ma anche collettivamente, all'interno della collettività, quindi una serie di comportamenti che esprimono il proprio credo. L'adesione personale allo stile di vita di quella specifica religione e poi la dottrina, cioè tutto quello che a livello filosofico più teorico e più concettuale, va a spiegare gli elementi base di quella religione, quindi le domande chiave che io che insegno filosofia si sono posti tutti sin dall'origine del tempo, quindi che cosa ci facciamo qui, chi ci ha creato, dove andremo, qual è il senso della nostra vita, eccetera. Eccoci allora, vediamo adesso, chi studia la religione? Ci sono i teologi, i teologi sono diversi rispetto agli esperti laici in scienze religiose, perché i teologi hanno un orientamento, hanno una fede precisa, quindi per esempio c'è il teologo cattolico, quello islamico, quello ebraico, infatti si parla di teologia cattolica, teologia islamica, ebraica. Gli esperti invece laici in scienze religiose fanno uno studio di tipo non confessionale ed è qualcosa di abbastanza recente, perché solo dall'ottocento si inizia a fare degli studi di teologia, di religione, di scienze religiose che sono lontane un po' dall'aspetto confessionale, per cui la persona studia a prescindere dal proprio credo. Ci sono diverse branche, per esempio, nelle scienze religiose come la storia delle religioni, la psicologia delle religioni, che è molto interessante, l'aspetto legato all'antropologia delle religioni, la filosofia, la sociologia delle religioni, quindi ci sono diverse discipline che studiano aspetti diversi, ovviamente poi che si interfacciano tra di loro, della religione. Ma veniamo al concetto di sacro, prima di addentrarci maggiormente nelle religioni, perché prima di tutto dobbiamo capire che cos'è il sacro, a partire dall'etimologia della parola sacro, che vuol dire dal latino sacer, e ha un doppio significato, perché nell'antica Roma rappresentava tutti i riti e le attività dedicate agli dèi, perché erano politeisti, da parte della comunità politica dell'epoca. E diciamo questo aspetto del sacro è un aspetto interessante, perché il doppio significato di sacer? Perché da un lato vuol dire maledetto, saceresto vuol dire sia maledetto, ma anche sia benedetto dagli dèi. Quindi quel sacro, può voler dire sia aspetti legati alla maledizione, quindi l'essere maledetto, ma anche legati alla benedizione dei dèi. È un'idea quindi di qualcosa da venerare, ma allo stesso tempo qualcosa da temere, che ha in pugno le sorti del mondo, che ha in pugno le sorti della nostra vita. Quindi torno a dirvi che l'etimologia della parola sacro voleva dire sia un aspetto positivo, quindi la benedizione da parte degli dèi, ma anche di qualcosa di negativo, la maledizione. E quindi qua già ci fa capire che il sacro va amato, va benedetto, va ricercato, va venerato, ma allo stesso tempo va temuto. È temibile perché tutto quello che è sacro è qualcosa che ha in mano le tue sorti, le sorti del mondo e le sorti della tua vita. Il concetto di sacro è un concetto fondamentale in tutte le religioni, quindi da quelle animiste che credevano, gli animiste credevano appunto che ogni essere vivente o comunque ogni realtà avesse un'anima, il vento avesse un'anima, l'albero avesse un'anima, l'animale avesse un'anima, quelle politeiste che credevano in più dèi e quelle monoteiste che credono in un solo Dio. Attenzione perché il concetto di Dio non è presente in tutte le religioni, mentre quello di sacro sì. Questo è un aspetto su cui batto molto chiodo con i miei studenti, perché Dio per esempio nelle tradizioni animiste, quindi nelle prime civiltà, quelle più primitive, chiamiamole così, non c'era il concetto di Dio perché tutto aveva un'anima e tutto andava rispettato. Invece il concetto di Dio nasce successivamente, quindi il concetto di sacro è il concetto fondamentale. Sacro, presenza di una forza soprannaturale amata e temuta allo stesso tempo, quindi ricordiamoci questo aspetto e l'etimologia della parola che ha in sé sia un aspetto positivo, sia un aspetto temibile, temuto. Vediamo adesso le interpretazioni del sacro. Interpretazione sociologica e poi vediamo quella ontologica. Allora quella sociologica ci arriva da Durkheim, che è stato uno dei più grandi studiosi di sociologia per quanto riguarda le religioni. Ne ho già parlato nel corso di sociologia e lui parla delle forme elementari della vita religiosa. Per lui la religione è un elemento fondamentale di coesione sociale, cioè più che per la salvezza della propria anima, la religione è un elemento fondamentale di coesione sociale, di adattamento e di appartenenza ad una società. Da qui nasce una distinzione tra ciò che è sacro e ciò che è profano, cioè ciò che non è dedicato agli dèi ed esce dal luogo consacrato, perché da fanum in latino che vuol dire stare al di fuori. Ecco qua il punto legato a ciò che è sacro e ciò che è profano. Per cui per Durkheim la religione non nasce più che altro per trovare una salvezza, per trovare un senso futuro al proprio essere, ma per una coesione sociale reale in quel momento, perché serve a creare un gruppo di appartenenza. In gruppo e out group, io sono di questa religione, tu non lo sei, oppure siamo tutti uguali, siamo tutti della stessa religione, quindi è un aspetto di adattamento e di appartenenza ad una società. Poi abbiamo l'interpretazione ontologica, che è quella di Rudolf Otto con il sacro del 1917. Lui ha un approccio un po' diverso rispetto a quello sociologico di Durkheim, perché dice che il sacro e la religione in sé è un'esperienza individuale, prima che sociale, quindi in primis nasce da un'esigenza individuale, di rispondere ad alcune domande che sono dentro di noi, che fanno parte di noi, che prima o poi noi ci poniamo nella nostra vita. E infatti bellissima questa frase che dice che il sacro è mistero tremendo e affascinante. E sì, perché prima o poi ci si ferma a farsi delle domande sulla propria esistenza, sul proprio futuro, sul proprio senso della vita. Allora per Rudolf Otto la religione nasce da un'esigenza individuale, come un'esperienza individuale, per poi diventare un'esperienza sociale. Veniamo adesso al sacro e la religione nella preistoria, perché facciamo un piccolo passaggio storico, diciamo percorso antropologico, per arrivare ai giorni nostri, per arrivare a parlare delle religioni che ci sono oggi nel mondo. A partire dall'Homo sapiens. Allora innanzitutto dobbiamo dire che bisogna utilizzare in modo cauto la parola religione, perché non abbiamo dei documenti scritti che attestano la nascita e lo sviluppo di una vera e propria religione. Ma c'è un dato certo per quanto riguarda l'Homo sapiens, che durante il paleolitico medio l'Homo sapiens aveva un rudimentale pensiero sacro, attraverso quelle che erano delle attività o dei rituali che davano ben oltre il soddisfacimento dei bisogni puramente fisiologici. Quindi l'Homo sapiens ad un certo punto nel paleolitico medio, quindi vedete all'incirca tra 200.000 e 35.000 anni fa, mette in atto dei rituali, questo siamo riusciti a scoprirlo grazie all'archeologia, grazie ai vari studi, mette in atto dei rituali e delle attività di culto che vanno ben oltre al di là della mera soddisfazione dei beni primari, quindi della mera sopravvivenza, come per esempio la sepoltura dei morti, che faceva anche Neandertal. La sepoltura è stato un primo punto fondamentale, un atto rituale di accompagnamento alla morte e al pensiero di una vita successiva e a un'elaborazione del lutto, quindi il rituale di accompagnamento alla morte con la sepoltura non era soltanto per motivi igienici, perché sicuramente lasciare il cadavere all'aria aperta con tutte le conseguenze del caso aveva anche un motivo igienico, ma c'era anche un altro motivo, perché si è scoperto nelle varie, nei vari studi e poi nei vari ritrovamenti che sono stati fatti, che per esempio il morto veniva adagiato in bare o direttamente dentro la terra in posizione supina ranicchiata, veniva vestito e con diversi accessori utili per la vita successiva, come le armi, il cibo, i gioielli, quindi con quello che viene chiamato corredo funerario. Allora lì è impossibile che sia stato fatto tutto questo solo per motivi igienici, perché altrimenti se fosse stato fatto solo per motivi igienici avrebbero sepolti senza tutto questo corredo funerario, senza tutto questo rituale. Invece c'era proprio un rituale di passaggio importantissimo e questo è già un primo punto che ci fa pensare che già dal neander ci fosse una prima rudimentale, un primo rudimentale pensiero di ciò che era sacro, di ciò che poteva essere andare al di là della fisica, quindi andare nella metafisica che fosse un rituale che aiutasse le persone ad andare in un'altra vita, perché altrimenti perché mettergli del cibo, delle armi e quant'altro. E poi abbiamo anche per esempio delle pitture rupestri, per esempio sono state trovate in Francia, in Spagna, risalenti a 35.000, 15.000 anni fa, con immagini di caccia, con immagini di organi sessuali, come rituali propiziatori per la caccia e la fertilità, quindi come delle divinità, infatti sono state trovate anche delle statue di divinità, come la madre terra, queste veneri che rappresentavano la madre terra, oppure i monumenti megalitici fatti con delle pietre di grandi dimensioni, il menhir e il dolmen, il menhir con una sola pietra e il dolmen con tre pietre che formano una specie di architrave. Tutti questi aspetti ci danno già l'idea che nella preistoria ci fosse un primo rudimentale concetto di sacro, quindi ritorniamo all'etimologia della parola, cioè qualcosa in cui credere che va al di là della fisica, che va al di là del naturale, che va nel soprannaturale, che va nel divino e da amare, da venerare, ma allo stesso tempo da temere, da ricercare, da propiziare, da pregare. E quindi queste sono i primi rudimentali, i primi rudimentali manifestazioni di una, diciamo di un sacro, di un vissuto sacro, anche se il concetto di religione io ve l'ho messo tra parentesi, tra virgolette, perché bisogna andare un po' cauti a parlare di religione nella preistoria, proprio perché adesso, come adesso, pensando alle regioni che ci sono oggi, diciamo che possiamo vedere in modo ancora un po' arcaico. Veniamo adesso alla teoria evoluzionista di Edward Tyler, di cui ho parlato anche in antropologia, è una teoria importantissima, perché ci parla proprio di un passaggio, di una evoluzione, non solo dell'essere umano, ma anche della religione, del pensiero sacro, del pensiero religioso, perché si passa da una primitività caratterizzata da un pensiero animista, dove, ripeto, tutto ha un'anima, quindi l'albero ha un'anima, il vento ha un'anima, la pioggia ha un'anima e ci sta comunicando qualcosa perché sta piumendo in quel momento, fino ad arrivare ad una maggiore complessità con i pensieri politeisti, quindi con più dei da venerare, come pensiamo ai romani prima dell'avvento del cristianesimo, e poi monoteisti, con una religione monoteista, quindi con un solo dio. L'altro rivoluzionista di Edward Tyler è stata però poi, criticata da alcuni studiosi, tra cui Andrew Lang e Wilhelm Schmidt. Lang dice che c'è sempre stata, sia nelle popolazioni primitive, un'idea di un dio onnipotente, onnisciente creatore, magari in modo rudimentale, però secondo Lang tutte le popolazioni, comprese quelle primitive, avevano comunque l'idea di un dio onnipotente, onnisciente eterno. E su questo ci aggiungo un passaggio nella riflessione riguardo per esempio, provo a pensare ad Eraclito, provo a pensare a Anassimandro, anzi meglio ancora ad Anassimandro, con il concetto di Aperon, che aveva le stesse caratteristiche del dio onnipotente, onnisciente creatore, però non era chiamato dio, ma era chiamato Aperon. Vediamo invece a Schmidt, etnologo austriaco, che seguì la teoria di Lang e che sostiene l'esistenza di una forma di monoteismo primordiale, nel suo libro che si chiama Le origini del concetto di dio del 1934. Quindi secondo Schmidt c'è una naturale predisposizione dell'uomo al monoteismo, ma il dio che veneravano le popolazioni primitive spesso non coincideva con il dio delle religioni monoteiste di oggi, quindi ebraismo, cristianesimo e islam. Perché per esempio in diverse popolazioni africane il dio creatore del mondo, dopo averlo creato, si ritirava e lasciava intervenire nel mondo dei minori, degli dei minori o gli ispiri degli antenati. Quindi in sostanza Schmidt dice c'è sempre stata una predisposizione al monoteismo, dove c'era un dio maggiore, un dio che creava il mondo e che poi lasciava, lui si ritirava per fare altro e lasciava intervenire nel mondo degli dei o degli spiriti minori o addirittura gli spiriti degli antenati. Questo era il concetto di Schmidt. Veniamo adesso al politeismo. Politeismo che si sviluppa rispetto all'animismo in civiltà più evolute, come per esempio gli egizi, i greci, i romani. Gli studiosi pensano che il politeismo sia sorto all'interno di popolazioni quindi con un grado di complessità maggiore. E che cosa si intende per grado di complessità? La capacità di scrittura, innanzitutto, un'economia più strutturata, anche una politica più evoluta, come per esempio abbiamo detto gli egizi, ma anche i sumeri, i fenici, i greci e i romani. Così come anche dall'altra parte le popolazioni precolombiane in America, che ovviamente in modi diversi tra loro avevano un buon livello di sviluppo di complessità. Quindi stiamo parlando dei maia, degli aztechi e dell'inca. Ricordiamoci, politeismo nasce da pan, tutto e teon, che vuol dire dio. Quindi abbiamo diversi dei che impersonificano, spesso vengono antropomorfizzati e impersonificano, simboleggiano un aspetto della vita quotidiana. Per esempio c'è il dio della guerra, c'è il dio della caccia, c'è il dio delle arti, c'è il dio della fertilità, c'è il dio protettore della casa, c'è il dio messaggero e quindi ci sono diversi dei a seconda delle necessità, a seconda delle caratteristiche che possono riguardare determinati mestieri o addirittura determinati aspetti della vita quotidiana o personale di un individuo. sempre rimanendo nel politeismo c'è Dume Tzil che parla della presenza di tre divinità principali che simboleggiano le tre funzioni sociali. Secondo lui quindi ci sono tre divinità principali. Una è quella sacrale giuridica, quindi quella che riguarda più l'aspetto giuridico dello Stato, della delle leggi, della spiritualità. Poi c'è l'aspetto, quella la funzione diciamo con la divinità più guerriera che riguarda l'aspetto della guerra, della protezione, quella più produttiva che non riguarda soltanto la produttività lavorativa ma anche la fertilità. Anche Platone parlava di questi aspetti legati proprio alle tre caratteristiche della società, le tre personalità all'interno della società che erano i governanti, che erano i filosofi, che si occupavano dell'aspetto sacrale giuridico, poi c'erano i guerrieri e poi c'erano i produttori, i lavoratori. Però questo come dire è un'aggiunta in più che ho voluto fare come parallelismo con filosofia. Vediamo per esempio Roma, Roma abbiamo Giove che era il signore degli dèi, abbiamo Marte, dio della guerra e poi Quirino che era il protettore degli uomini e poi i popoli germanici con Odino, il signore degli dèi, Thor che adesso è tornato alla ribalta con diversi film, che era il dio della forza e Freis, il dio della fertilità. Ma passiamo al monoteismo. Monoteismo che adesso diciamo è il tipo di religione che viene considerata più complessa anche dalla teoria evoluzionista di Tyler e abbiamo più del 50% della popolazione mondiale che è monoteista. Abbiamo l'ebraismo, poi successivamente è nato il cristianesimo e successivamente l'islam. Qui io vi ho messo nella slide due aspetti da tenere in considerazione, il monoteismo puro e l'enoteismo. Il monoteismo puro è quello che considera, cioè che crede in un solo dio, nella Bibbia appunto c'è scritto proprio non avrai altro dio all'infuori di me, cioè proprio anche nei comandamenti. L'enoteismo invece in realtà non è una forma monoteistica, perché è una via intermedia tra poli e mono, nel senso che si crede nell'esistenza di un dio più importante, ma poi ci sono degli altri dei. Quindi pensiamo per esempio al signore assoluto induista, al grande spirito dei nativi americani, al dio sole nell'antica Roma, però il fatto che ci fosse il dio sole prevedeva anche l'esistenza di altri dei minori. E quindi questo in realtà l'enoteismo non è una forma di monoteismo puro, ma è una via intermedia tra il politeismo e il monoteismo. Ecco, adesso qua dobbiamo fare una distinzione importante tra rito e culto. Due aspetti, io ho voluto segnalarvi proprio la definizione sul dizionario Treccani. Allora il rito è il complesso di norme che regola lo svolgimento di un'azione sacrale, le cerimonie di un culto religioso. Quindi i riti possono essere religiosi e non religiosi. Vediamoli insieme. Allora, a cosa servono i riti? Secondo l'antropologo Vittorio Lanternari, Lanternari si chiama di cognome, servono a che cosa i riti? Servono a svelare le verità di fede e spiegare alcuni quesiti sull'origine del mondo, sul senso della vita. Quindi i riti servono per svelare fede. Per tramandare la dottrina, i valori, i simboli sacri di generazione in generazione, perché senza eritri non ci sarebbe un modo per tramandare la dottrina, per tramandare i valori, e poi anche per rinsaldare i legami sociali, la coesione sociale e dare un senso di appartenenza al gruppo. Quindi, torno a ripeterli, secondo Lanternari, che era un antropologo, abbiamo come primo significato importante, i riti servono per svelare le verità di fede e spiegano tutti quei quesiti fondamentali, filosofici ed esistenziali che noi ci poniamo, come da dove originiamo, qual è il senso della nostra vita. Secondo motivo, servono per tramandare i valori, l'etica, la morale di quella determinata religione, la dottrina, i simboli sacri di generazione in generazione. E poi l'ultimo è rinsaldare i legami sociali, la coesione sociale e dare un senso di appartenenza al gruppo e alla comunità. Il culto invece sono le usanze e gli atti per mezzo dei quali il sentimento religioso si esprime. Sono collegati ovviamente tra di loro e servono entrambi proprio per creare una coesione sociale importante legata alla religione. Veniamo ai riti. Riti, come abbiamo detto, possono essere religiosi o non religiosi. Riti religiosi sono, per esempio, la recitare le preghiere, oppure ballare, danzare, cantare, le processioni come per esempio la via crucis. I funerali sono dei riti religiosi. Il bagno purificatore nel gange può essere un rito religioso. I riti possono essere appunto anche non religiosi, però una cosa fondamentale da dire è che, a prescindere che siano religiosi o non religiosi, hanno le stesse caratteristiche. Perché? Che cosa fanno i riti? I riti celebrano qualcosa, ricordano qualcosa, sono ripetitivi, si ripetono, quindi vanno a ripetersi sempre nello stesso modo, implicano una partecipazione di una collettività. Quindi non sono individuali i riti. I riti è qualcosa che implica una partecipazione. Nei riti religiosi, come abbiamo detto, servono per ribadire le verità di fede, di ricordare i propri dogmi, la propria dottrina. Come per esempio abbiamo visto adesso, poi arriviamo ai riti non religiosi, i riti di passaggio, studiati tantissimo dagli antropologi, come per esempio da Arnold van Gennep, che analizzò i vari elementi principali dei riti di passaggio, che sono dei riti di passaggio importanti nella nostra vita, come per esempio quando si nasce, quando si muore, quando ci si sposa, quando si entra in comunità, e sanciscono quindi un cambiamento, come per esempio il rito di passaggio del funerale. Perché è importante il funerale? Perché è un rito di passaggio fondamentale che aiuta a salutare, a distaccarsi, le persone che sono rimaste in terra, distaccarsi dal proprio caro defunto, creare quindi, adeguarsi piano piano al cambiamento. Non peraltro quando purtroppo c'è stato questa bruttissima vicenda del covid e il lockdown, molti non hanno potuto salutare per l'ultima volta i propri cari e questo è stato veramente un grande dramma, un grande problema dal punto di vista psicologico. Quindi questo aspetto, questo rito, lo abbiamo potuto apprezzare proprio durante il covid, proprio perché ci è venuto a mancare. Noi lo davamo quasi per scontato, ma in realtà veramente è diventata una cosa molto importante. Poi ci sono i riti di iniziazione, che sono delle prove per poter entrare a far parte di una comunità, di un gruppo, di un'elite, per esempio il fatto di entrare, di farsi monaco, di entrare in una confraternita, oppure diventare guerrieri, o entrare a far parte di una setta religiosa, o fare un'iniziazione tribale. Per esempio nelle iniziazioni tribali c'erano delle prove del dolore di alcuni giovani nelle tribù tribali, per esempio gli facevano dei tatuaggi con delle tecniche molto dolorose, oppure li dovevano fare un digiuno prolungato, oppure gli venivano estratti dei denti senza anestesia, oppure purtroppo succedeva anche la circoncisione nei maschi e l'ablazione del clitori nella donna come rito di iniziazione in alcune realtà. Veniamo ai riti non religiosi, a parte quelli riti di passaggio che abbiamo già detto, che possono essere anche appunto il funerale laico, i riti patriotici nazionalistici, come per esempio il 25 aprile o il 2 giugno per gli italiani, o i riti di iniziazione pubblica o occulta, quando si fa parte, anche solo quando si entra a far parte di una confraternita, si sono visti tanti film negli Stati Uniti, quelli sono riti di iniziazione. Vediamo proprio questi riti di passaggio secondo Van Genep che parla di tre fasi, un rito di separazione, quindi sono i riti preliminari, la transizione, quindi i riti liminari e poi la reintegrazione, i riti post-liminari, quindi questa reintegrazione all'interno della società. Queste sono per Van Genep i punti fondamentali, pensiamo per esempio alla morte, no, la morte di una persona cara. All'inizio si vive la separazione, poi c'è un periodo di transizione, di elaborazione del lutto e poi c'è una reintegrazione all'interno della società, si spera in modo sano avendo superato ed elaborato al meglio il lutto. Veniamo ora al simbolismo religioso. Che cos'è il simbolismo religioso? Cioè sono una serie di simboli, di gesti rituali, di immagini, di oggetti che hanno un significato per quella specifica religione. Vediamo alcuni esempi. Beh, la croce, la croce nel cristianesimo rappresenta proprio il simbolo, la croce cristiana, ma anche il velo islamico, il pane, il vino, il pesce per i cristiani, perché i primi cristiani si riconoscevano tra loro tracciando un pesce. Il pesce in greco antico era Ictis, acronimo di, adesso io non so leggere, lo leggo in italiano, Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore. Vorrei essere criticata per la mia lettura in greco. E poi per esempio ci sono in le campane tibetane per i buddhisti, che sono dei disegni che poi nella tradizione vengono distrutte. Ci sono, attenzione, delle religioni aniconiche, cioè che non ammettono immagini e sono per esempio l'ebraismo e l'islam. Però ecco queste religioni aniconiche permettono comunque dei motivi arabeschi, per esempio, oppure le pergamene della Torah nelle sinagoge, ma non ammettono immagini, non ci sono immagini per esempio di personaggi, nel caso dell'ebraismo della Bibbia, non vengono raffigurati in alcun modo. Veniamo a vedere i ministri del culto. Qua ci sono alcuni esempi. Che cosa sono? Beh, innanzitutto dipende dalla religione di cui stiamo parlando, ma in generale ci sono sempre delle persone legittimate a essere il ministro del culto, cioè legittimate o da studi, quindi hanno studiato, si sono preparati, si sono laureati, oppure da iniziazioni, quindi sono stati iniziati perché ci sono poi dei riti di iniziazione anche in questo caso. Per esempio gli sciamani, che vengono considerati nelle culture in cui vengono, sono presenti gli sciamani, delle persone privilegiate perché hanno un rapporto privilegiato con il divino. Per esempio i monaci buddisti, abbiamo i sacerdoti cattolici, i passori protestanti, i rabbini ebrei, l'imam nell'islam, per cui questi ministri del culto sono persone autorizzate, che hanno studiato, che sono state iniziate, quindi attraverso un rito di iniziazione sono diventati ministri del culto e aiutano i credenti ad entrare in relazione o a conoscere meglio per esempio la parola. Pensiamo per esempio ad un pastore protestante, il pastore protestante ha anche come sua missione quella di far conoscere maggiormente la parola di Dio attraverso i suoi sermoni e le predicazioni. Vediamo adesso le principali religioni del mondo, le vediamo ovviamente, ripeto, senza pretesa di esaustività, quindi non pensate che stiamo facendo un corso solo, anzi bisognerebbe fare un corso solo sulle religioni, anche di psicologia delle religioni, perché c'è molto da dire. Io ovviamente vi parlerò degli elementi principali, ecco, dal punto di vista antropologico. Stiamo parlando del cristianesimo, che insomma coinvolge un terzo della popolazione mondiale ad oggi, l'islam, l'ebraismo, l'induismo, il buddismo. Iniziamo con l'ebraismo, inizio con l'ebraismo, anche se vi ho appena detto che il cristianesimo è la religione con più persone, con più credenti in tutto il mondo, perché l'ebraismo è la prima religione monoteista, religione del popolo ebreo. Oggi siamo circa 14 milioni di persone, la comunità più popolosa si trova negli Stati Uniti con circa 6 milioni, mentre nello Stato di Israele, pensate, vivono circa 5 milioni di ebrei. Quindi la comunità più popolosa è proprio negli Stati Uniti. In Italia sono molti meno, abbiamo pochissimi ebrei rispetto agli Stati Uniti, perché sono meno di 30 mila. Quali sono le fonti fondamentali, la base fondante della religione ebraica? Innanzitutto l'Antico Testamento, con il Pentateutco, che viene chiamato la Torah, che è Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. I libri storici, libri poetici e sapienziali, i libri profetici, il Mishnah e il Talmud, che serve a interpretare la Torah, e l'Alakka, che sono degli scritti di giurisprudenza ebraica. Ecco, vediamo la nascita che viene attribuita al patriarca Abramo. L'ebraismo è stato soggetto di aspore e persecuzioni nei secoli, di esclusione sociale, di ghettizzazione, di antisemitismo, non solo quello che noi adesso vediamo, quello della Shoah, dello sterminio di più di sei milioni di ebrei nei campi di concentramento. Ma pensiamo alla Crociata dei Pezzenti, una crociata non crociata in realtà, che è venuta prima dell'inizio delle crociate e che ha visto lo sterminio di tantissimi ebrei, così come proprio delle leggi razziali naziste nel 1935, quelle fasciste nel 1938. Insomma, c'è stato veramente un accanimento nei confronti dell'ebraismo perché tacciati come gli uccisori, come i responsabili della morte di Gesù. Infatti nel Concilio Vaticano II, dobbiamo aspettare gli anni tra il 1963 e il 1965, sancisce proprio da parte del Vaticano l'eliminazione dell'accusa di decidio, quindi dell'accusa di aver ucciso Gesù, perché per secoli l'ebraismo come religione e gli ebrei come religiosi sono stati perseguitati e osteggiati proprio perché considerati gli uccisori, coloro che hanno mandato a morte Gesù. Abbiamo poi un primo Papa a visitare una sinagoga, Giovanni Paolo II, e a riconoscere lo Stato di Israele. Questo è stato un ulteriore passaggio in avanti anche nella relazione, nel dialogo tra ebraismo e cristianesimo. Vediamo adesso velocemente i riti e le feste. Allora, una cosa importante è la circoncisione ai neonati di otto giorni, così come aveva fatto Abramo a Isacco quando nacque, e quindi questo è un aspetto importante. Poi abbiamo il Bar Mitzvah. Ragazzi e ragazze di 13 anni che diventano Bar Mitzvah, cioè figli del comandamento, quindi possono iniziare a partecipare alla vita religiosa. Sotto i 13 anni non è così, quindi questo è un rito di passaggio importante, è un rito di iniziazione il Bar Mitzvah a 13 anni, sia per le ragazze che per i ragazzi. Poi c'è la celebrazione del sabato. Sabato è importantissimo perché Dio si riposò dopo la creazione del mondo e viene festeggiata, cioè questa celebrazione del sabato dal tramonto del venerdì fino ovviamente al tramonto del sabato sera. Poi abbiamo il Capodanno, che è considerato il giorno del giudizio, tra settembre e ottobre, e poi lo Yom Kippur, che è il giorno dell'espiazione, dieci giorni dopo il Capodanno, quindi tra ottobre, insomma, a seconda di quando cade il Capodanno. Poi abbiamo l'Annukkah, che è la festa delle luci, che ricorda l'inaugurazione del nuovo Tempio di Gerusalemme, costruito dai Maccabei nel 164 a.C. e in questa festa si accende il candelabro, scusate, a nove bracci, che rimane acceso per otto giorni, quindi va a ricordare l'inaugurazione del nuovo Tempio di Gerusalemme, costruito dai Maccabei nel 164 a.C. E poi abbiamo la Pasqua ebraica, il Pesach, che è la liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, perché contrariamente al cristianesimo, dove la Pasqua è la risurrezione di Cristo, negli ebrei festeggiano la Pasqua, ma la loro Pasqua è per festeggiare la liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto con Mosè. Vediamo ora il cristianesimo, che abbiamo detto che è una delle tre religioni abramitiche. Perché abramitiche? Perché il capostipite, il patriarca, è sempre Abramo, come nel caso dell'ebraismo e poi vedremo anche nell'Islam. Conta 2,2 miliardi nel mondo e quindi insomma abbiamo diversi aspetti importanti da sottolineare. Innanzitutto perché inizialmente il cristianesimo era una sorta di setta ebraica, con pochi seguaci, quindi parte, nasce dall'ebraismo, con il quale condivide l'Antico Testamento, per poi aggiungere anche il Nuovo Testamento come fonte fondamentale, perché nel Nuovo Testamento troviamo i Vangeli e poi tutti gli scritti, per esempio, di Paolo, che raccontano la vita, le opere di Gesù, la sua morte, la sua risurrezione e poi la nascita del cristianesimo. Quindi ricordiamo che inizialmente il cristianesimo era una sorta di setta ebraica, c'erano pochi seguaci, ma alla fine del primo secolo dopo Cristo, quindi dopo una sessantina d'anni dalla morte e dalla risurrezione di Gesù, ha avuto una grande diffusione, soprattutto grazie alle predicazioni degli Apostoli, in modo particolare di Paolo di Tarso, San Paolo. Troviamo tre confessioni principali, con l'aggiunta anche di quella anglicana, quindi abbiamo la cattolica, quella ortodossa, quella protestante, poi c'è anche quella anglicana che è nata, è stata frutto, diciamo, più di una questione anche un po' politico-sociale, di distacco dell'Inghilterra dal Vaticano con re Enrico VIII. Bene, vediamo i fondamenti della dottrina cristiana nel concilio di Nicea Costantino, Costantinopoli nel 325. Allora, innanzitutto per il cristianesimo esiste un unico Dio, c'è una Trinità che è Padre, Figlio e Spirito Santo, c'è un Figlio, Gesù Cristo, che è l'incarnazione del Dio vivente, morto e risorto per la salvezza degli uomini peccatori. E' fondamentale la remissione dei peccati e per avere la vita eterna, quindi è fondamentale credere in Gesù Cristo, che Gesù è morto per noi, per i nostri peccati e quindi noi siamo salvati. Poi, vabbè, ci sono varie questioni legate alla grazia, eccetera, su cui non voglio andare poi a in questo ambito ad approfondire, che però se volete approfondire ci sono tutte le lezioni per esempio legate a Lutero, a Calvino, a Zwingli, eccetera, sia nella playlist di storia ma anche proprio in filosofia. Abbiamo diverse confessioni, abbiamo visto, partiamo dal cattolicesimo, dal greco katholikos, che vuol dire universale, ha una struttura gerarchica con a capo il Papa, che è appunto il vescovo, la carica di vescovo più alta, c'è la messa, l'iniziazione cristiana avviene con tre sacramenti che sono il battesimo, l'eucaristia, la confermazione e la cresima, che è la cresima, scusate, praticamente la confermazione è la cresima, quindi sono tre sacramenti. Poi ci sono altri sacramenti che sono la penitenza, l'ordinazione sacerdotale, il matrimonio e l'unzione dei fermi, cosa che però vedremo che per esempio nella confessione protestante non ci sono più, comunque ci sono delle differenze. Poi c'è la venerazione della Vergine Maria e il culto dei Santi, per esempio troviamo giornate come il 15 agosto, che è l'assunzione in cielo di Maria, l'8 dicembre che è l'immacolata concezione, poi ci sono vari santuari come Međugorje, Fatima, Lourdes, che fanno tutte parte, come dire, di una confessione religiosa che riguarda il cattolicesimo. Invece vediamo alla chiesa ortodossa. Chiesa ortodossa che si è, attraverso lo scisma, il cosiddetto scisma d'Oriente, si è staccata dalla chiesa, quella che poi è stata definita chiesa cattolica, quindi chiesa d'Occidente, perché non accettava l'autorità del Papa. È considerata infatti autocefale perché senza un capo, perché ogni chiesa ha un proprio capo nazionale, il patriarca e una propria giurisdizione. C'è tra l'altro una diversa interpretazione della Trinità, perché nella chiesa cattolica padre, figlio e spirito santo sono tutte poste allo stesso piano, mentre invece per la chiesa ortodossa il figlio è considerato, diciamo, subordinato, comunque non sullo stesso piano rispetto al Dio e allo Spirito Santo, al padre e allo Spirito Santo. Poi i preti non devono sottostare al celibato, quindi si possono sposare, avere figli, si condividono sicuramente con i cattolici diversi elementi dottrinali come i Sette Sacramenti, la venerazione della Vergine Maria e il culto dei Santi. Ci sono le stesse festività, anche se la Pasqua viene festeggiata una settimana dopo, e celebrazioni liturgiche. Che cosa vuol dire? Ortodossa vuol dire diretta opinione, cioè per cui se nella chiesa cattolica, cattolica vuol dire universale, quindi valida per tutti, ortodossa, quando è stata chiamata così ortodossa, voleva dire diretta opinione, quindi ognuno giustamente portava l'acqua al suo mulino e si è chiamata come confessione come quella universale, quella giusta, quella corretta. Ah, dimenticavo, quando è che c'è stato lo scisma d'Oriente? C'è stato nel Medioevo, nel 1054, a seguito appunto di una discordia legata alla Trinità che vi ho appena detto, e anche per la non accettazione dell'autorità del Papa. Però le grosse, il grosso scisma, il grosso cambiamento c'è stato con Lutero e con la riforma protestante che adesso vediamo. Prima di vedere la chiesa protestante, quindi la confessione protestante, dobbiamo parlare della chiesa anglicana, che nasce nel XVI secolo da un conflitto tra il Papa e il re Enrico VIII. Allora qua la situazione non è solo una questione religiosa, ma ovviamente come spesso accade anche una questione politica, di interessi economici, eccetera, perché Enrico VIII, chiudor, era sposato con Caterina d'Aragona, che gli aveva dato un'erede femmina, quindi voleva l'erede maschio. Poi si dice che si era invaguito di una dama di corte che si chiamava Anna Bolena e voleva divorziare quindi da Caterina d'Aragona. Per cui Enrico VIII, la faccio proprio in modo molto semplice, Enrico VIII chiede al Papa la concessione di potersi separare da Caterina d'Aragona. Pratica che si poteva anche fare, non era una cosa così inconsueta, ma che ha reso un po' difficile la cosa in quanto Caterina d'Aragona era imparentata con Carlo V e quindi il Papa, non volendosi inimicare Carlo V, dice di no ad Enrico VIII. Enrico VIII poi di tutto punto decide quindi, anche per questioni sue economiche, per avere le ricchezze della Chiesa in Inghilterra, per fare un po' il bello e il cattivo tempo, decide di staccarsi dalla Chiesa cattolica romana, quindi dal Vaticano, per dare vita ad una Chiesa tutta sua, anglicana, dove il capo della Chiesa anglicana tuttora è il re o la regina d'Inghilterra e sotto c'è l'autorità ecclesiastica massima, che è l'Arcivesco di Canterboli, ma che comunque mantiene molte caratteristiche liturgiche, organizzative tipiche della Chiesa cattolica, per cui questo scisma è stato uno scisma anche più che per questioni dottrinali, proprio per questioni politiche, economiche di interessi. Ecco, arriviamo quindi alle Chiese protestanti o anche chiamate riformate. Nascono dalla riforma protestante per opera di Martín Lutero, quindi stiamo parlando del 1500, e poi dallo sviluppo massiccio, soprattutto per mano di Giovanni Calvino, perché in realtà è vero che il propulsore della riforma, la riforma è partita da Martín Lutero, però in realtà è stato il calvinismo che si è sviluppato maggiormente anche per esempio negli Stati Uniti e in altri paesi oltre alla Germania. Abbiamo anche Zfingli. Quali sono gli aspetti principali? Allora non c'è nessuna mediazione tra Dio e l'uomo, se non Gesù. Quindi non è prevista la venerazione della Vergine Maria, dei Santi, perché l'unico mediatore è Gesù e quindi si prega Gesù, si prega Dio, non c'è bisogno di intermediazioni. Poi c'è il principio del sacerdozio universale. Il principio del sacerdozio universale vuol dire che tutti siamo sacerdoti, siamo tutti santi come è scritto nella Bibbia e c'è la possibilità quindi dei pastori, uomini e anche donne possono essere pastori, di sposarsi e avere figli. Poi non si parla più di messa ma si parla di culto dove il pastore porta una predicazione, un sermone. Ci sono dei canti, delle preghiere in comune. Poi un'altra cosa importante che vengono considerati due soli sacramenti che sono quelli che sono menzionati e vissuti in prima persona da Gesù che sono il battesimo e l'eucaristia. Veniamo all'Islam. Allora l'Islam è la seconda religione del mondo dopo il cristianesimo, stiamo parlando del 23%, cioè circa un miliardo e 600 milioni, ma si stima che aumenterà il numero di musulmani nell'arco dei prossimi decenni, arrivando probabilmente a superare il cristianesimo in quanto a numeri. Anche loro sono una religione monoteista, quindi ammettono un unico dio che è Allah, rivelato al profeta Muhammad che è maometto vissuto nel settimo secolo dopo Cristo, quindi dopo Gesù, quindi vuol dire che l'Islam è la terza religione monoteista in quanto a nascita, prima nasce l'ebraismo, poi il cristianesimo e successivamente nel settimo secolo dopo Cristo l'Islam. Ritorno a dire c'è un unico dio rivelato al profeta maometto da un intermediario che è l'arcangelo Gabriele. Islam vuol dire abbandono sotto missione a Dio e il libro sacro è il Corano che contiene 114 sure con regole religiose di comportamento e giuridiche. Quali sono i pilastri dell'Islam? Allora la Shahada, mi spiace non so pronunciare benissimo quindi perdonatemi, che è la professione di fede, poi c'è il Salat che è la preghiera rituale cinque volte al giorno, Zakat che è l'elemosina ai poveri a cui appunto il popolo musulmano deve assolutamente fare l'elemosina ai poveri, che è uno dei pilastri fondamentali dell'Islam. Son che è il digiuno rituale durante il mese di Ramadan fino al tramonto e il Ramadan avviene il nono mese del calendario islamico, quindi dove non si può mangiare, non si può bere durante tutta la giornata fino al tramonto e bisogna ovviamente astenersi anche dal fumo e dai rapporti sessuali. E poi c'è Agi che è il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita per chi ha la possibilità economica, quindi almeno una volta nella vita bisogna andare in pellegrinaggio alla Mecca. Veniamo ora all'induismo, al buddismo, partire dal induismo che è un insieme, attenzione, di religioni, quindi non è una sola religione ma un insieme di religiose e di filosofie di vita, i cui testi si basano sui veda che sono delle meditazioni, degli inni, delle poesie, delle filosofie di vita, dove la base di partenza, ecco tra l'altro i veda sono stati scritti tantissimi secoli fa, quindi tra il 1500 e il 500 avanti Cristo, quindi è interessante questo aspetto, sono dei testi molto antichi. Tra l'altro l'induismo come termine è stato coniato dagli inglesi durante la colonizzazione in Oriente per indicare proprio questa serie di religioni, di filosofie di vita, quindi non sarebbe correttissimo dire che l'induismo è una religione, perché in realtà nel termine induismo ci sono tante religioni e tante filosofie di vita, che però condividono per esempio un aspetto importante, cioè il rispetto per tutti gli esseri viventi. Alcuni vengono addirittura ritenuti sacri come la vacca da latte, che per esempio in India è sacra. Ci sono tante divinità, ma un unico principio creatore che si manifesta in diversi dei, che c'è Brahma, che è il creatore, Vishnu, che è il conservatore dell'universo e Shiva, che è il distruttore. Ci sono anche delle idee importantissime, per esempio la dea Kali, che è la dea del tempo, che è temibile, distrugge tutto. Uma, la dea misericordiosa, Durga, la guerriera, e Sati, che è la dea della fedeltà, ed era la moglie di Shiva, che era il dio distruttore. Ecco, l'induismo. L'induismo prevedeva una divisione in caste e sottocaste, che è stata poi bandita in India nel 1950, anche se purtroppo persiste ancora questa suddivisione sociale, dove ci sono i sacerdoti, che sono i bramini, poi il re, i nobili e i guerrieri, i commercianti e gli artigiani e gli operai. Ci sono diversi riti, tra i quali per esempio i bagni purificatori nelle acque sacre del fiume Gange, le meditazioni e le pratiche ascetiche, come per esempio lo yoga, che è arrivato fino a noi, e il digiuno, e le preghiere, i mantra, che sono, cosa sono i mantra? Sono delle formule brevi, sono delle formule ripetitive durante le meditazioni, come per esempio il famoso OM. Veniamo adesso al buddismo. Allora, il buddismo è considerata la quarta religione mondiale, dopo il cristianesimo, l'islam e l'induismo. È un insieme, anche qui sempre non è facile definire il buddismo, perché è un insieme di dottrine ispirate dal messaggio trasmesso dal Buddha, che era un principe indiano, Siddhartha Gautama, vissuto tra il 563 e il 483 a.C. Il buddismo si è diffuso soprattutto in Asia meridionale e orientale, quindi soprattutto in Giappone, Sri Lanka, Thailandia, Cambogia, e i testi sacri sono il Tripitaka, che è costituito da tre canoni, quindi il canone pali, quello cinese, quello tibetano, e la festività, una delle festività più importanti è il Vesak, che è un ricordo della vita del Buddha. Quali sono le quattro nobili verità di Siddhartha? Cioè che cosa ha insegnato Siddhartha? Innanzitutto dobbiamo dire che Siddhartha, secondo la tradizione in punto di morte, raggiunse il Paranirvana, che è uno stato di illuminazione, di totale distacco dal dolore dell'esistenza, perché uno dei primi pilastri delle nobili verità è proprio che il dolore fa parte della nostra esistenza, cioè dobbiamo farci una ragione, insomma, che il dolore fa parte della nostra esistenza. La causa del dolore è il desiderio e quindi per poter eliminare il dolore è necessario eliminare il desiderio. Esiste una via per fare ciò, quindi per eliminare il desiderio e quindi eliminare il dolore. E abbiamo qua il Samsara, cioè che cos'è? Un ciclo continuo di morti e rinascite governato dal karma. Quindi secondo i buddhisti noi ci continuiamo a reincarnare, continuiamo a morire e rinascere e questo ciclo è governato dal karma. Che cos'è il karma? Cioè ogni azione e comportamento in vita ha un effetto nella vita futura. Quindi in base a come tu ti comporti oggi nella tua vita, questo dipenderà da come tu ti reincarnerai nella vita successiva. Cioè se ti sei comportato male magari rischi di reincarnarti in un animale o peggio ancora in un demone, se ti sei comportato bene invece puoi addirittura a aspirare a diventare, a reincarnarti in una divinità. Quindi l'obiettivo è quello di vivere in modo eticamente corretto, mite, improntato alla non violenza e cercare di raggiungere la totale liberazione dal dolore, come attraverso il nirvana, cioè scusate raggiungere il nirvana attraverso l'ottuplice sentiero. Adesso lo vediamo. Eccolo qua, l'ottuplice sentiero. Quindi otto passi per raggiungere il nirvana, per raggiungere la cessazione del dolore, della sofferenza che fa parte della nostra vita. Innanzitutto la retta conoscenza, cioè conoscere la verità, sia che non esiste vita senza dolore e che c'è una strada per poter vivere senza dolore. Bisogna essere consapevoli di questo aspetto. Poi la retta disposizione mentale, cioè avere giusto atteggiamento, che vuol dire non violento, non cattivo, non avido. Avere una buona predisposizione anche verso gli altri. La retta parola, cioè essere persone oneste, trasparenti, genuine, corrette, sia per quanto riguarda la parola, sia per quanto riguarda l'azione. Vedete la quarta parte, quindi non uccidere, non essere cattivi, non rubare, non commettere i neati. Poi c'è il retto sostentamento, cioè vivere in modo onesto, rispettoso, senza rubare, senza fregare gli altri. C'è il retto sforzo, cioè un impegno costante alla crescita personale, a mostrare il lato positivo, all'essere sempre migliori. Poi c'è la retta concentrazione, cioè la capacità di dominare se stessi, di dominare i propri impulsi, la propria aggressività, i propri desideri, perché abbiamo detto prima che i desideri portano alla sofferenza. E poi la retta meditazione, cioè la capacità di riuscire a meditare e a concentrarsi su di sé. Veniamo ora al taoismo, al confucianesimo, al buddismo in Cina. Allora, vediamo il taoismo, che è stato fondato da Lao Tzu nel sesto secolo a.C., che era un astrologo e guardiano degli scritti alla corte della dinastia Tzu. Diciamo che i libri fondamentali poi li trovate qua, il libro della vita e della virtù, è questo Tzuang Tzu. E quello che si ricorda maggiormente è il Tao, che è il principio di tutto, dove è composto da due opposti complementari, cioè che hanno bisogno l'uno dell'altro, lo yin e lo yang. Torno un attimo indietro, cioè taoismo, confucianesimo e buddismo. Abbiamo tre principali tradizioni, religioni e filosofiche cinesi. Alcune le chiamano religioni, altre più che altro filosofie, ma dobbiamo tenere presente che per la cultura cinese, religione e filosofia andava a baraccetto, insomma, perché sono complementari e non vanno in antitesi. Quindi per noi religione e filosofia possono essere due aspetti diversi. Invece per i cinesi no. Allora, taoismo e confucianesimo nascono proprio in Cina, quindi sono autoctone, mentre il buddismo abbiamo visto che nasce in India, però ha uno sviluppo incredibile anche in Cina. ritorno al taoismo un attimo, perché volevo riprendere alcuni punti. Abbiamo detto che il fondatore Lao Tzu, che è stato un astrologo e guardiano degli scritti alla corte della dinastia Tzu, ad un certo punto Lao Tzu decide di lasciare tutto e si mette in viaggio e si narra, la tradizione narra, che durante un suo viaggio un guardiano di un passo di montagna gli pone delle domande filosofiche, a cui lui risponde scrivendo il libro della vita e della virtù, quindi questo Tao Te Ching, e dopo scrive Tzuanzi, che rappresenta la base del pensiero taoista, cioè questa espressione dell'equilibrio tra gli opposti, che è poi molto simile a quello che è stato teorizzato da Eraclito nella filosofia occidentale, quando parlava dell'armonia negli opposti. Tao è anche la rappresentazione simbolica del nostro corpo, che è un organismo in cerca sempre di equilibrio e che deve essere curato e trattato bene secondo alcune regole comportamentali, dietetiche, igieniche. Quindi questo Lao Tzu propone delle regole comportamentali, delle diete, delle regole igieniche, infatti è proprio dal taoismo che si è sviluppata la famosa medicina tradizionale cinese, che ha come obiettivo proprio la salvaguardia dell'organismo, l'armonia, la connessione della nostra, del nostro corpo e della nostra anima con la natura. Veniamo al confucianesimo, fondatore Kong Q, che è il chiamato Confucio, più facile, Confuzzi, maestro Kong, bisogna avere una vita virtuosa, buon altruista, la venerazione degli antenati, amore e rispetto degli altri e delle istituzioni molto simile al buddismo, come basi fondanti, l'importanza della coesione, della collaborazione sociale per prosperare, questi sono i punti fondamentali del confucianesimo. E il buddismo abbiamo detto che non è autoctono perché nasce nell'India settentrionale e si sviluppa poi in Cina durante la dinastia Han. Nei secoli è stata amata e odiata perché da un lato è stata molto apprezzata, dall'altro invece i monaci sono stati anche molto perseguitati, addirittura distrutti i templi e i monasteri buddhisti. Nei secoli poi anche queste persecuzioni hanno portato ad un'integrazione dei principi buddhisti con quelli del confucianesimo, quindi molto spesso le caratteristiche, gli elementi principali del confucianesimo si mischiano con quello del buddismo e viceversa. Vediamo adesso lo shintoismo che è la religione nazionale giapponese, kami no michi, via dei kami, i kami sono degli spiriti, quindi degli spiriti che animano gli elementi della natura in organica e organica e shinto vuol dire via degli dei. Chi è impuro secondo lo shintoismo? Impuro è chi disobbedisce all'istituzione, ma anche e soprattutto al volere degli dei. Impuro è colui che ha la lebra, impuro è chi ha un disturbo del comportamento e quindi è fondamentale avere anche in questo caso delle attenzioni proprio nel comportamento, essere virtuosi, obbedienti, partecipare ai pellegrinaggi e ai santuari e attenzione perché nello shintoismo è quasi del tutto assente il tema della vita dopo la morte, nel senso che per gli shintoisti esiste un al di là, ma non si domandano né riflettono su che cosa ci sia esattamente, quindi non c'è nello shintoismo un grande interesse nell'esistenza dopo la morte, cioè si focalizzano maggiormente sull'esistenza in questa vita. Benissimo, abbiamo finito questa lunghissima lezione, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e iscriviti al mio canale attivando la campanella per ricevere le notifiche e poi ti aspetto anche sugli altri miei canali social. A presto!